Mi chiamo Martina Rocca, ho 20 anni, vivo fino al Ligure, dove frequento l'Istituto Alberghiero Migliorini, nel settore dell'accoglienza turistica. Ho già avuto numerose esperienze nel settore e per il futuro spero di lavorare nel settore del turismo anche all'estero. Parteciperò all'Exu 2015, dove spero di conoscere meglio il mondo e le nuove culture. Grazie a tutti.